ben tornati amici di fight for yours alta trasferta per noi questa settimana siamo a roma per la fight week di cage warriors 144 primo storico evento della promotion di gran boyland qui in italia ci sono un sacco di atleti impegnati come sapete nella car di venerdì sera emanuele sabatino emanuele zaccaria dario bellandi jasmine favero micol di segni dylan adzan carlo pedasoli junior e il nostro michele martignoni nel main event darà l'assalto al titolo dei pesi gallo contro dominic woding un'altra delle novità che avete sicuramente visto sui nostri social in questa settimana e che ci sarà un commentatore d'eccezione al banco del commento peddi pimble signori peddi debedi sarà qui a roma a commentare la prima storica car di cage warriors in terra italiana la prima ma probabilmente chi lo sa non l'ultima i tifosi hanno risposto benissimo abbiamo tutti noi risposto benissimo abbiamo visto che nell'arco di poco più di 24 ore i biglietti sono andati sold out giusto ieri sera qualche biglietto in più è stato aggiunto e anche quelli dovrebbero essere finiti adesso mentre parliamo signori settimana storica per le mma italiane domani giovedì il peso e i face off ufficiali probabilmente quando uscirà questo video avete già visto sui nostri canali social i risultati appunto del peso e i video dei face off per il momento dal colosseo storica arena di battaglie tra gladiatori è tutto l'appuntamento è venerdì 19 45 fiere di roma per cage warriors 144 per altre clamorose e fantastiche battaglie benvenuto in italia cage warriors grazie a tutti